ciao a tutti amici del cancro benvenuti e bentornati io sono ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi metafisica spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale bene mostrami cancro tendenze energetiche generali per la prima metà di ottobre e abbiamo la carta dell'imperatrice periodo di prosperità periodo dedicato alle arti magari qualcuno potrebbe avvicinarsi a qualche nuovo hobby qualche nuova questione di tipo artistico fa riferimento anche a una madre però quindi è un progetto che è in fase di gestazione bene andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico come sempre vi ricordo che le letture sono generiche sono per un collettivo quindi è facile che non risuoni tutto prendete quello che vi serve lasciate andare il resto all'universo se per caso non risuona se nulla o se voleste completare il vostro messaggio vi consiglio di ascoltare l'ascendente segno lunare o venere e nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega proprio come unire questi oroscopi sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi lo vedete anche qui e lo trovate anche nelle informazioni del canale bene partiamo subito con un cavaliere di bastoni un 3 di spade abbiamo il papa poi c'è una carta nascosta sotto che non vedo papa morte 6 di spade 10 di bastoni e 7 di coppe allora partiamo da questo cavaliere di bastoni può rappresentare una persona vicino a voi potrebbe rappresentare anche una vostra attitudine una vostra determinazione abbiamo poi vederlo con i mini tarocchi però qui ragazzi c'è un 3 di spade quindi per qualcuno ci potrebbe essere qualche tipo di delusione all'inizio di ottobre normalmente io la considero la carta della ferita ancora aperta può essere inerente ad un riconoscimento a un contratto a qualche cosa che voi sentite la necessità debba essere riconosciuto davanti a tutti qui c'è anche la morte quindi si tratta di tagliare con qualche cosa ragazzi il papa rappresenta anche il matrimonio quindi per qualcuno potrebbe fare riferimento alla situazione matrimoniale se non è proprio un matrimonio in forma scritta cioè diciamo ufficiale potrebbe anche essere una convivenza ma è già meno diciamo che più matrimonio contratto perché proprio il papa è una è una carta che parla di contratti allora andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta ripartiamo da questo cavaliere di bastoni abbiamo il sole il 9 di spade l'appeso al contrario allora devo dire che è come se si sbloccasse qualche cosa all'inizio di ottobre ed è per quello che arriva questo impeto del cavaliere di bastoni in realtà potreste avere ancora delle preoccupazioni riguardo dei problemi che avete già affrontato però sono solo questioni mentali ragazzi andiamo a vedere il 3 di spade perché effettivamente tra di spade rappresenta anche la sofferenza mentale abbiamo un 3 di pentacoli e un 6 di coppe qui ho come la sensazione che ci siano stati dei problemi con una persona che conoscevate da tanto tempo con una persona con la quale magari stavate collaborando a livello personale piuttosto che lavorativo però potrebbe anche essere qualcuno di famiglia vi dirò vedere il papa per qualcuno potrebbe essere un fratello o un figlio tenete presente che qui avete l'imperatrice e qui c'è il sole allora 5 di spade al contrario per il papa e 6 di bastoni che l'arcano minore del papa un'altra parte per il 5 di spade dunque io ho come l'idea che abbiate bisogno un attimino di come vi posso spiegare sembra brutto da dire ma imparare a parlare cioè imparare ad usare le parole giuste per riuscire ad ottenere quello che volete allora il 5 di spade sono le lotte egoiche però qui il punto è che non prendete le distanze da un certo tipo di magari ambiente sociale piuttosto che ambiente familiare o lavorativo e non riuscire come se non riuscite a vedere le cose da un punto di vista più ampio e qui basta cambiare la forma in cui voi vi esprimete per riuscire ad ottenere quello che volete andiamo a vedere la morte cos'è che dovete lasciare indietro con la carta della morte perché quando arriva è perché sempre c'è bisogno di tagliare qualche cosa allora ragazzi per qualcuno si tratta di lasciare indietro un incontro che vi ha fatto soffrire potrebbe essere un incontro intimo considerato l'asso di bastoni ma potrebbe anche essere qualche hobby qualche questione non lo so vi faccio un esempio vi viene l'obby della caccia e però nell'ambiente in cui vivete non è ben vista la caccia e quindi si creano parecchi conflitti vi faccio un esempio come un altro però mi è venuto questo della caccia magari per qualcuno risuona c'è questo questa delusione questa ferita da lasciare indietro come se avessi bisogno in un certo senso di dimenticare anche se io personalmente vi dico è meglio perdonare che dimenticare cioè dimenticare no perché sono le esperienze del passato che creano la saggezza di oggi no io vedere se risparmia sette di spade questa è scivolata la teniamo e 10 di si ripeto c'è qualche cosa nel tipo di ambiente che sia la famiglia che sia il gruppo lavorativo che sia la società è qualcosa che è molto presente nella vostra vita comunque c'è qualche cosa da cui voi vi dovete allontanare c'è un sei di spade un sette di spade ci sono state delle bugie probabilmente o ci sare ci saranno delle bugie diciamo nella seconda settimana di ottobre ma tenete presente che potrebbero anche essere le bugie che voi raccontate a voi stessi quelle proiezioni il vi faccio un altro un esempio stupido quando una donna è convinta che magari il partner no quando una donna magari è convinta che quel determinato uomo la ami solo perché magari c'è stato qualche scambio di sguardi senza che lui magari in realtà abbia fatto niente e la donna si autoconvince che quegli sguardi vogliono dire qualcosa magari si la tendenza anche quella di raccontarsi che no ma sicuramente non fa niente non sta facendo niente perché non vuole dare nell'occhio o cose di questo genere cc si proprio costruisce una storia di bugie perché abbiamo bisogno di credere quella cosa lì ed è qualche cosa anche questa ragazzi una carta di contratti il 10 di pentacoli ed è una carta di famiglia anche qui così di coppe fatemi sapere se per voi una situazione familiare piuttosto che romantica perché potrebbe essere sia la famiglia di origine ma anche la famiglia che avete costruito state cercando di costruire come se ci fosse una sorta di distanza andiamo a vedere 10 di bastoni abbiamo un 9 di pentacoli un 3 di coppe e un 2 di bastoni e come se vi dicessero di guardare al futuro di lasciarvi indietro quelli che sono le aspettative degli altri di pensare a voi stessi di iniziare a celebrare per i frutti del vostro lavoro e con un 2 di bastoni come se vi dicessero guardate in avanti e qui poi in effetti terminiamo con un 7 di coppa andiamo a vedere 7 di coppe abbiamo un 4 di spade un asso di coppe ragazzi è come se si vi aprissero nuove possibilità nuove conoscenze e anche un inizio ripeto per qualcuno romantico potrebbe essere che sia una stesa diciamo di quel genere però è come se ci fosse la guarigione del cuore ragazzi che io lasso di coppe lo sento molto collegato con il quarto chakra e l'apertura del cuore l'innamoramento un nuovo inizio molte volte fa riferimento a un figlio proprio alla nascita di un figlio qui abbiamo l'imperatrice il 9 di pentacoli è una carta che parla di gravidanza ok quindi se quello che state cercando vi dico a ottobre potrebbero arrivare buone notizie se state cercando un figlio per quello che riguarda la situazione con il parentado ho come l'idea che ci siano delle questioni tra cugini vi dirò cugino fratelli potrebbe essere che hanno bisogno di essere regolarizzate ma ho come l'idea che sarete voi un certo punto a dire boh basta mi allontano da questa situazione vado per la mia strada e come se ci fosse questa forte sofferenza del 3 di spade che in un certo senso blocca i vostri movimenti andiamo a vedere osho che cosa dice il ribelle wow ragazzi imperatore e imperatrice divino maschile divino femminile aprite il cuore ma datevi delle regole il ribelle in questo mazzo specifico viene rappresentato che sarebbe l'imperatore viene rappresentato con le catene che si spezzano e come se vi dicessero rompete le catene rompete come vi posso dire gli schemi familiari e create le vostre regole per arrivare alla stabilità alla prosperità a quello che è l'abbondanza a quello che è la creazione della materia mi venga a dire rinnovo il l'invito per chi stesse cercando un figlio perché con imperatore e imperatrice ragazzi è molto forte questa possibilità ok andiamo a vedere grazie ok allora questa carta vi ricorda di proteggere i vostri sogni questa fatina sta tenendo la diciamo vicino al cuore le mani e sono illuminate e come se ci fosse qualcosa che bisogna tenere vicino a sé fino a quando non c'è già il sentore o perlomeno finché non è già concretizzata quella cosa tenete lo stretto voi non ditelo a nessuno fino a quando appunto non sarete pronti a rilasciare questo questo sogno rilasciare nel senso a portarlo al mondo ufficializzarlo diciamo va bene amici del cancro questo è quello che avevo per voi spero che comunque la lettura vi sia stata utile come spunto di riflessione fatemelo sapere con un like una condivisione con un commento che a me piace sempre leggere i vostri commenti se avete piacere di iniziare un percorso di crescita con me ripeto mi potete contattare all'email che vedete lì il percorso individuale che sto proponendo è basato sul lavorare le credenze limitanti cioè le credenze che limitano l'espansione mentre per quello che riguarda la sezione degli abbonamenti sono video di metafisica che vi spiegano come funziona il mondo delle energie diciamo sono video che vi spiegano come lavorare le energie no fare il lavoro che io chiamo di sotto bene amici del cancro questo è quello che ho per voi io spero che la lettura vi sia stata utile vi mando un abbraccio ci vediamo nei prossimi video ciao ciao